Eeeh che schifo! Prima di cominciare ragazzi non vi dimenticate di lasciare un bel pollice in su per questo video, buona visione! What's up to you all? Benvenuti da giocherina in questa nuovissima serie su Little Nightmares Ebbene ragazzi è finita la serie su Resident Evil 7, ovviamente dovevo trovare un'altra serie da fare Ho scelto questa serie ragazzi perché prima di tutto è un gioco che è uscito appena qualche giorno fa E l'acquisto di questo gioco ragazzi è stato gentilmente concesso da una donazione fattami da un mio iscritto Ringrazio davvero di cuore il carissimo Todd Frogs che ha deciso di regalarmi un buono Steam da 20€ E quindi ho ben deciso ragazzi di utilizzarli ovviamente per comprare un gioco su cui farci una serie Ho scelto questo perché appunto è uscito da appena pochi giorni E seconda cosa perché da le pochissime cose che ho visto mi sembra davvero molto molto carino Molto interessante, è da giocare sicuramente ragazzi L'unica pecca di questo gioco per sentito dire è che purtroppo non dura molto, dura abbastanza poco Quindi anche la serie ovviamente durerà poco Però vabbè penso che l'importante sia giocare ragazzi e goderci questa nuova serie su questo nuovo gioco Per cui senza perdere tempo Ovviamente ragazzi per quanto riguarda le impostazioni La grafica era già stata messa automaticamente su media E effettivamente se seleziono la grafica alta vedete che comincia a sgranare Per cui ragazzi sarò costretta a tenerla su media Perché un altro aspetto positivo di questo gioco ragazzi è che graficamente è davvero molto molto bello Mi dispiace non poterlo giocare e non potervelo offrire a grafica massima ragazzi Però insomma ci accontentiamo è quello che abbiamo Per cui senza perdere tempo ragazzi andiamo ad iniziare una nuova partita Eccoci qua ragazzi io della storia di questo gioco non so assolutamente niente Per cui ci sto emergendo completamente ignara di quello che mi aspetta So soltanto che vestiremo i panni di una bambina credo Non so se è una femminuccia o un maschietto Fatto sta che vestiremo i panni di un bambino E che vivremo ragazzi molte delle paure che di solito viviamo quando siamo bambini Vedo fuscato forse ho bisogno di un paio di occhiali E' un uomo? E' un signore? Buon uomo? E' un essere umano? Cos'è? Continuo a vedere fusca Ah è una donna? Aha Incominciamo bene Abbiamo già degli incubi ma che bellezza Che meraviglia Ok ragazzi siamo già in game Vediamo un po' che cosa ci aspetta allora eh Ok io penso che comunque faremo qualche tutorial Per vedere un po' come funzionano i comandi Ok possiamo quindi andare avanti e indietro per lo scenario così Sempre comunque a scorrimento laterale ragazzi credo Ecco vediamo un po' dove ci tocca andare Cos'è? Cosa sono quei cosetti? Che sono andati via correndo come se non ci fosse un domani Bello Cominciamo bene nella nebbia dopo aver vissuto degli incubi Proprio una situazione meravigliosa Posso interagire con sto cosa? Probabilmente no O forse si è una cosa che devo fare Ah ecco Ho premuto B ragazzi E facciamo attenzione Ho premuto B e ho acceso quello che sembrerebbe un accendino Per cui possiamo accendere delle lanterne A quanto pare forse non avremo un tutorial ragazzi Quindi guardare un attimo i comandi Quindi accuccia ti scivola L2 Prendi R2 Scatta con quadrato Accendino con cerchio Salta e lancia con X Muoviti la levetta sinistra Guardati intorno con la levetta destra Ovviamente tenere premuto per l'accendino Ok quindi prendi Posso prendere la maniglia Ok Ovviamente aprire la porta Possiamo accucciarci Ed entrare in questo cunicolo Già non vedo una cippa Ok possiamo accendere l'accendino ragazzi Anche quando siamo accucciati La bambina purtroppo sembra scalza Mi dispiace per lei Perché su sto ferro sarà dannatamente freddo Insomma ecco Quindi direi di proseguire Vedere che cosa ci aspetta adesso Mi staccare l'acqua addosso Bello perché si sente il rumore dell'acqua Sul suo impermeabile di gomma Che figata ragazzi Ok Oh Siamo usciti da questa parte Però mi piacerebbe davvero tantissimo Sapere dove siamo Minchia quei piedi nudi Nell'acqua piovana Cioè mi sta bene freddo Solo a vederlo Bello Madonna ste catene sono Cioè di dimensioni giganti Ma dove siamo Che cosa siamo Perché siamo qui Che facciamo qui Possiamo aprire le robe Posso Posso far qualcosa a questo coso Forse Mi sa Mi sa De no ragazzi Forse non sono abbastanza forte Per spostarlo Ah possiamo arrampicarci anche Forse Vabbè io direi Tenei comunque L'accendino acceso Cosa c'è qua Cos'è sto coso Cos'è sto coso E' una bambola Che roba è Bella Posso afferrarla Ah posso afferrarla E che è la bambola dell'incubo E te lancio Guarda L'ho rotta Ho fatto qualcosa rompendola Manco le scope posso spostar Minchia Mi capisera 300 kg Però vabbè Diciamole sì E procediamo da sta parte Passiamo qua sotto Un divano Anche abbastanza appiattito Quindi questo mi fa capire Che qui C'è C'è sta qualcuno C'è sta qualcuno Qui E' passato qualcuno Lì E' passato qualcuno Lì L'abbiamo visto tutto Ragazzi E' tutti Anzi Perché ho detto tutto Tutti l'abbiamo visto Vabbè posso salire Posso aggrapparmi qua E' forse no Aspetta Posso spostare qualcosa Nella mia vita Sono capace Di spostare qualcosa Poco importa Direi di riprovare Da questa parte Ragazzi Insomma Non ci arrivo Ah ok Mi devo aggrappare Quanto sono stupida Premendo re 2 Si aggrappa Le sporgenze Stepan Ah 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 C'è pure un rotolo I cartigenica Però Mi sa che non ne avrà più bisogno Delle pantofole Puzzolenti Ambuffite Cioè possiamo prendere Tutti gli oggetti Ragazzi Ma che schifo Malla Puzzare i piedi Qui c'è una lettera Per raccoglierla Per fare qualcosa Oddio mio ragazzi Fantastica scena Per cominciare Fatto sta che Alla maniglia Non ci arriviamo Sulla porta c'è Scolpito un occhio Che ci osserva In maniera maligna Però possiamo spostare La sedia Non potevamo spostare La scopa Ma possiamo spostare La sedia De legno Va bene Io Ok Possiamo aggrapparci A aprire la porta E' stato davvero Abbastanza inquietante Direi No Ma io C'ho una bruttissima esperienza Con la mel maniera Che schifo Infatti vedi Se stiamo sulla mel maniera Ragazzi Non possiamo saltare La mel maniera Non è mai una cosa positiva Qui ci sono impronte Dei piedi Pure noi lasciamo Le nostre impronte Ragazzi Facciamo attenzione Dopo aver camminato Lì dentro Davvero Gli dettagli Sono stati studiati Benissimo Posso aprirlo Ah Oddio Cosa c'è lì Due piedi Ma perché ce l'hanno Quei piedi questi Ma tu sai che ci possiamo Arrampicare qui Perché ci dovrebbero essere Un paio di scarpe Dentro un frigorifero Vecchio Ammuffita No reggiti Reggiti Allora A sta bambina Ragazzi Dobbiamo darle un nome Io immagino Che sia una femmina Quindi le dobbiamo dare Un nome Assolutamente Un'altra cosa Che so di questo gioco Ragazzi Che non viene spiegato Niente Cioè Dovrai capirlo Insomma Tu intuire Proprio come è successo Magari Che schifo Cos'è una sanguisuga Che schifio Minchia Questo ci mancava Correre al rischio Che me succhiano via l'anima Comunque dicevo Succede come è successo Per esempio In Inside Ti ritrovi sparato nel mondo E non ti viene spiegato Assolutamente niente Sta manopolo Possiamo girarla In qualche modo No Però ragazzi Da notare Il dettaglio Che ci si può Aggrappare Comunque Quello era Uno di quegli schifi È uno di quegli schifi Non voglio che mi cara Non voglio che mi cara Addosso Che schifo Che schifo Che schifo C'è un'altra per terra State via la larga Luri di essere immondi Ok Abbiamo aperto L'ascensore Credo Non so se è un ascensore È semplicemente Una porta automatica Ma tu sai che scappo via Posso accendere Questa lanterna Per qualche motivo Sta arrivando Sta arrivando Possiamo accenderla comunque Adesso non so se è tipo un salvataggio O che cosa Perché vi ripeto Non so niente di sto gioco Comunque Che quelle schifezze Siano appese E mi possano cadere addosso Mi fa veramente Schifo 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 Ok Qua posso tirarla via Perfetto Madonna Però non ti ammazzare Quasi te la dai in fronte Oh Vediamo Che cosa siete Ah Gesù No 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 Aiuto Oddio mi stanno avvenendo addosso Mi stanno avvenendo addosso Mi stanno avvenendo addosso Sanno avvenendo Sanno avvenendo E proprio il verso che ci sta Ok Io direi Non vedo manco dove sono Ok Potevo accenderlo Mi sto scordata Mi sto scordata che potevo accenderlo Apri Apri Oddio Oddio Che ansia Cioè ero lì che passeggiavo tranquillamente Mi facevo i fattacci miei Accendi sta cosa Io immagino che questi siano tipo dei salvataggi ragazzi Suppongo io eh Quanto sta ragazzi che non credo che farò episodi più lunghi Oddio Mi fate più ai colpi pure voi Più lunghi tipo di 15 minuti Perché già il gioco dura poco E se no eh che cacchio Cioè lo sta pure attenta Da come metto i piedi E dove li metto Ah dai di nuovo che schifo Di nuovo l'entra sta schifezza Ma perché mi dovete far rivestire in cubo orrendo e vicido E' orripilante Madonna Allora immagino che quelle lanterne non siano i salvataggi Non lo so perché appare l'occhietto là sotto La testa che ok Vabbè facciamo attenzione ragazzi Te non ho ancora capito che roba sei Io procederei tipo così Però piano 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 eh Piano Non me cadete prego Non me cadete di nuovo perché Non voglio arrivare l'incubo delle sanguisughe Se permetti eh Grazie per la tua gentile collaborazione Perché è diventato immediatamente tutto buio Se fino ad un attimo fa c'era la luce qua C'era la luce Vabbè ok Diciamo recipro E saliamo questa meravigliosa scala Intanto qua continua a farsi tutto Schifosamente buio Quasi non vedo dove metto i piedi Non vedo un palmo dal mio naso però Ok siamo arrivati almeno fin qui Facendo attenzione Giriamo sto coso Oh vedi che c'è la luce del sole Potete tenere aperti gli stipi Oh 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 Aspetta 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 Allora Ne devo mettere il pepe a culo Questo mi è stato addi praticamente Ok cercherò di mettermi il pepe a culo Saltando Saltando No non ce la farò mai Non ce la faccio Porca miseria Come faccio mo Ce ne resta qualcosa ragazzi Però cioè non faccio Umanamente in tempo Ma cosa saltando C'è ripremuto Ah giusto vedi Cioè praticamente se te scordi Se te scordi ti ricordano Che c'è il tutorial Ok 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 E mi ha fatto appena in tempo Che meraviglia Apriamo sto coso Puoi aprirlo Apri 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 Puoi farcela Puoi farcela piccola Vabbè Diciamo che abbiamo dato la libertà Un piccolo essere sfortunato Fatemi vedere se qua sopra C'è qualcosa Visto che possiamo Arrappicarci Quasi dovunque C'è qualcosa qua Che posso usare A quanto pare No vabbè Passiamo dove è passato Il nostro piccolo amico Ok Siamo su una nave È tipo una nave Mi sembra di aver capito Vero Oh che succede Che succede Che succede Che non mi piace Oh Cos'era quel coso Cos'era quel coso Sì quel coso Vabbè Immagino che è un coso Che ci aspetterà Da un attimo Di altre parti Vero Siamo pure Rentre arcesso Che contenta Che sono Ok Accesa sta roba Direi ragazzi Che possiamo Stoppare qui A me dispiace Se gli episodi Durano un pochino poco Gioco di parole Però vi ripeto Già la longevità è poca Ragazzi Non voglio che duri Troppo poco la serie Per cui immagino che questo sia tipo un punto di salvataggio Suppongo Io spero che la scelta di questo gioco vi piaccia ragazzi Io ne sono contenta Perché credo che mi piacerà Tanto Grazie ancora a Todd Prox Per questa gentile donazione Questo video termina qui Vi ricordo ragazzi Che potete utilizzare il mio codice Per avere uno sconto Sull'acquisto dei videogiochi Su Digital24 Trovate il link in descrizione Come trovate in descrizione Il link per le donazioni Mi raccomando ragazzi Seguitemi su Instagram E le altre mie social Niente altro da raggiungere Grazie a tutti Un saluto Un bacione E ho a te A tutti Ci urma La giocherina Ciao Ciao